ciao questo è un nuovo video che voglio fare in questo video voglio portare il numero di summerstern nel numero 41 che si chiama il nome dei volumi si chiama anna che sono riuscito a leggerlo appena appena preso che come magari come sto resto come storia trama delle volumi tipo ci poteva amare anche stare che mi è come trama e ha molto succede magari così si poteva magari anche stare anche si parla di questa che in teoria parla di questa anna che che ha avuto un incidente stradale che rimane in coma per un po ma quando i medici gli avevano come si dice non gli avevano dato più più sicuramente che gli avevano dato che sembrava che ha pronto a morire che non si svegliava più neanche più da come dal coma lei si si riprende e viene nella sua tipo torna a casa sua a casa sua nel periodo della specie di periodo per riprendersi viene tipo affiancata da una da una persona che che subito questa persona qua viene a chiama subito samuel per capire magari come si dice per capire ma con l'aiuto di samuel voleva capire da dove provenivano gli incubi e gli incubi che potete che aveva anna durante durante il sonno che che dopo è sempre per colpa del coma quest'anno aveva perso la memoria e non si ricordava nemmeno come si dice che lavoro facesse così che può non magari a portarla proprio sul posto di lavoro che lei è una animalista che come si dice che lei dopo che quasi arrivati magari a a metà magari dopo la metà del volume lei chiede di chiedere a samuel di fare di tipo di fargli tipo un favore che a parte che durante magari la trama questo questo uomo che viene affiancato ad anna per custodirla per colpa sua anna si è proprio si dice licenza dal posto di lavoro perché molte cose anna perché sente voci sul suo conto che non gli non gli piacevano e per colpa di questo di questa persona lei lei si licenzia alla fine quando gli chiede il favore a samuel si ritrovano tipo assieme non vuole più tornare a casa sua assieme a questo a questa persona e lui scopre che samuel scopre che le medicine che gli dava non erano magari quelle che in teoria doveva magari prendere che lui che era tutta che in teoria questo uomo che stava con lei e li faceva prendere perché che voleva che torna subito la anna che ha la anna di sempre che alla fine samuel gli fa questo specie di esorcismo per farlo tornare tipo in sé e far andare via questo demone da lei e lei e anna torna nella sua entoria ma lei non senza in teoria torna nella sua nella sua vita normale e torna su e torna al suo posto di lavoro di lavoro di sempre torna tipo torna quest'anno torna normale con la sua sulla con la sua vita di sempre che sul finale fa questo proprio samuel e sta facendo questo esorcismo e niente che proprio sul finale fa questo esorcismo e e annato nella sua vita normale di prima di quando aveva fatto sto incidente è andata magari ed è andata atti poi in coma che alla fine la trama di questo e di questo volume e questa qua che anche se magari succede su un paio mi sembra due in due punti magari fa fa sempre i soliti come si dice un paio di rifiuti riferimenti a sempre a due numeri vecchi di due 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 vecchi numeri sempre di questa testata una mi sembra che a 37 l'altra ea il adesso non mi ricordo più bene mai che i numeri erano che faceva tipo riferimenti a due numeri vecchi di di sempre suoi di summer il 37 è un altro che come come al solito fa sempre riferimenti a vecchi numeri che sono che come fa di solito samuel che fa sempre riferimenti a numeri vecchi e niente che come magari forse non lo ha detto che la sceneggiatura di massimo filador marco salvegnano e sempre di questo oggio giammlatlo marco su ma fumo soli i disegni sono di頁 four ci carini la copertina маленьo piccioni mar Zo di vincenzo emiglio tanzillo che anche come corpettino e sembra come come i soliti diciamo e anche come magari i disegni ci ho visto che che magari anche se ma che non è lo stesso mai disegnato e mai di di sempre però sono sempre restano sempre come i soliti che si vedevano magari dentro la sa e sa mel e niente magari qualcosa da dire di questo volume magari non ho più mai niente da dire che quel costa sempre quel quattro euro equata che che è l'unica volume che mi ha piaciuto mai fino adesso ea quello magari che parlavano di quello che parlava sui solitato sui tatuaggi però anche questo qua come come trama anche a parte quei due piccoli magari riferimenti che ci potevano magari anche stare sui sui due arretrati però come sto come come magari come trama ci poteva mai anche anche stare che sono riuscito anche a legge a leggermelo subito e niente che il prossimo dovrebbe uscire il 29 29 aprile che si chiama terapia terapia di gruppo e dopo dal 6 di aprile deve riuscire sempre tramite box comics quella che produce proprio samuel stane dovrebbe anche uscire singularity che un altro fumetto di questa si prenderà box comics sull'oro che voglio mai parlare anch'io e quando esce il 6 di aprile ma è a maria a comprare magari il primo al primo e leggerlo e dopo magari vedere se magari è una serie e magari si merita o no però e niente magari e niente qualcos'altro da questo da questo questo volume ma ecco quello che potevo dire l'ho già detto e niente sicuramente ci vediamo magari più avanti con i miei soliti video sui manga o quando quando magari riesco a prendere qualche altro fumetto dai di da edicola per adesso magari vi saluti ci vediamo ci vediamo al prossimo video ciao